Un sistema creato ad hoc per evadere al fisco oltre 600.000 euro. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha scoperto una maxievasione fiscale e un ingente giro di fatture false. Nel mirino dei finanzieri sono finiti otto amministratori di società gelezi che avrebbero emesso fatture per oltre 600.000 euro. In questo modo avrebbero sottratto al fisco ingenti introiti. I finanzieri di Caltanissetta hanno denunciato otto persone e sequestrato circa 250.000 euro. L'attività di indagine è stata avviata da una verifica fiscale nei confronti di una delle società che è risultata sconosciuta al fisco che operava nel settore degli impianti elettrici. Attraverso l'analisi della documentazione contabile sono stati ricostruiti tutti i rapporti commerciali della società. Passate al setaccio tutte le operazioni di compravendita, incrociando i dati delle fatture, le fiamme gialle hanno ricostruito l'intero ciclo aziendale e i rapporti con altri operatori economici. Otto le persone denunciate. Uno degli amministratori è indagato per occultamento e distruzione di documentazione contabile ed emissione di fatture false. Gli altri sette per l'utilizzo delle fatture false.